Festen, il gioco della verità. All'inizio fu un celebre film, nel 1998 vinse la Palma al Festival di Cannes, il Gran Premio della giuria al Festival di Cannes. Film diretto da Thomas Wittenberg nel pieno clima di Dogma 95. Alcuni di voi lo ricorderanno questo manifesto. Dogma 95 realizzato proprio da Wittenberg con Lars von Trier, i due registi danesi che hanno cambiato il cinema europeo e internazionale degli anni 90. E proprio alle regole di Dogma si atteneva, anche tradendole ovviamente, Wittenberg raccontando questa crudissima storia di famiglia. Una saga familiare asprissima in cui a una cena per festeggiare il patriarca viene fuori tutto il marcio dei rapporti che ci sono tra questi componenti. Componenti della famiglia Kingenfeld e Christian, il giovane che accusa sostanzialmente il padre di abusi. Ma lo scontro è feroce. Da quel film, da quella sceneggiatura poi è stato tratto un testo teatrale che è andato in scena a Londra con grande successo e arriva adesso in Italia grazie a una giovane compagnia molto dinamica, molto interessante, il Mulino di Amleto, guidato dal regista Marco Lorenzi che seguiamo da qualche anno con particolare interesse perché ha elaborato un proprio stile interpretativo, un proprio capacità di confronto con i classici, anche con titoli meno noti del repertorio classico e che adesso affronta questa drammaturgia contemporanea a proprio modo, naturalmente con una propria creatività, con una propria visionarietà. Rimane ovviamente con tutta la forza la storia originale, ma rende in teatro forse ancora di più che non con le riprese, se possiamo dirlo, le riprese che fece Wittenberg, quella camera a mano, quegli ambienti così gelidi del nord Europa. Marco Lorenzi guida un cast affiatato, numeroso, di giovani e giovanissimi attori e attrici, in cui spicca da Dino Nigrelli, un ottimo attore che siamo molto curiosi di vedere. Devo dire, devo confessare, io non l'ho ancora visto questo spettacolo, lo vedrò con molta curiosità, sono veramente molto curioso di vedere come sono riusciti a portare quel cinema, quel testo a teatro. Normalmente questi passaggi sono sempre carichi di insidie, ma da quello che abbiamo letto, da quello che abbiamo saputo, il mulio di Amleto riesce con grande capacità a rendere molto teatrale questa vicenda e a coinvolgere gli spettatori con grandissima forza e con grandissima intelligenza soprattutto. Un'intelligenza che vuol dire non fare il verso al film, non cercare di ricreare sul palcoscenico il set cinematografico, ma giocando tutte le carte del teatro per raccontare una crudissima storia del nostro tempo. E dunque festa nel gioco della verità al Teatro Ivo Chiesa dal 6 al 9 di aprile.